www.marizopoli.it, novità da parte di Simest, una nuova misura che si chiama potenziamento dei mercati africani. Molto interessante, è dedicato alle imprese italiane che siano stabilmente presenti o esportino o si approvvigionino nel continente africano e che siano stabilmente fornitrici delle predette imprese secondo la circolare che poi vi alleggo qui, il RINC. 500.000 euro per le microimprese, 2.500.000 per le PMI e start-up innovative, 5.000.000 per le altre imprese. L'importo minimo della misura è 10.000 euro. C'è un fondo perduto per il 10% per le imprese al nord Italia e un 20% per le regioni del sud Italia. Le misure poi sono interessanti, tasso agevolativo dello 0,511, 6 anni di finanziamento, 200 milioni sono a disposizione. Vi alleggo il link. Alla prossima! Alla prossima!